Assemblea dei soci saga oggi all'aeroporto d'Abruzzo. I massimi vertici si riuniscono per affrontare un ordine del giorno che prevede fra i vari capitoli l'esame della situazione patrimoniale con relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Numeri in chiaro per studiare un piano capace di risollevare le sorti della struttura che ogni anno costa 6 milioni di euro. Dice il presidente Luciano Lauretio ogni euro speso dalla regione si moltiplica sul territorio 23 volte. La gestione dell'aeroporto d'Abruzzo è la seconda migliore in Italia nel suo settore. Dal punto di vista operativo noi siamo andati bene. Sappiamo tutti che i passeggeri sono aumentati. Dicembre è stato trionfale con un più 12%. Per quanto riguarda invece la situazione economica ho avuto più volte la possibilità di dire che noi per una legge del 2001 poi anche modificata viviamo anche di provvidenze pubbliche perché per sviluppare il traffico con le compagnie low cost abbiamo una contribuzione da dare a loro e la regione deve restituircele con un piano ogni anno che noi presentiamo. Se la regione nel 2014 non ci ha dato queste provvidenze noi abbiamo fatto una perdita e quindi con questa perdita occorrerà probabilmente ricapitalizzare. A presenziare all'assemblea straordinaria anche Daniele Becci che spiega pro e contro della situazione che da un lato vede implementate le rotte da Pescara, dall'altro vive il limite delle richieste delle grandi compagnie aeree. Il mercato low cost purtroppo prevede un aiuto da parte della regione che negli anni di fatto è stato attuato attraverso la famosa legge sul piano marketing che rifinanziava lo sviluppo del turismo nella nostra regione. Dopo una riunione a porte chiuse il governatore Luciano D'Alfonso ad annunciare la creazione di un piano industriale finalizzato alla capillarizzazione delle rotte, soprattutto verso est e soprattutto ad un'attività intensa di contrattazione con le grandi linee aeree. C'è un punto di sintesi tra le richieste delle compagnie e le esigenze delle società di gestione aeroportuali. Noi dobbiamo attivare un tilo alla fune intelligente tra il troppo poco che magari a volte si vorrebbe sostenere per un biglietto di accesso ad una linea aeroportuale è quello che magari consente poi la sostenibilità di quel volo. C'è un punto, un break even che noi dobbiamo assolutamente raggiungere attraverso lo studio, l'analisi dei dati, una lettura competente ed oggettiva. Questo promettiamo di qui alle prossime settimane. Infine una nota di colore, color caffè, quello finito sui pantaloni grigio chiaro del presidente D'Alfonso ad inizio riunione che il presidente ha risolto con la sua proverbiale ironia utile ad uscire sempre da qualsiasi imbarazzo. Daniele, finalmente tiranno che anche io macchie sui pantaloni!